Ciao Ceci, io ho appena finito di litigare un sacco con mia mamma perché continuo a ordinare vestiti e, cioè, so che ne ho troppi, però non riesco a fermarmi. Vale, tranquilla, tanto io ho lo stesso problema con mia mamma, mi succede la stessa cosa. Ma senti, facciamo che ci colleghiamo? Certo, vai, ci sono. Siamo Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti. Questo è un podcast di Cora Media, si chiama Buonanotte. Buonasera Vale. Ciao, come stai? Bene, sempre stanca perché comunque la sera cala l'abbiocco. Com'è andata la giornata, t'apposto? Ma è impegnativa, impegnativa, la tua? Sì, oggi in realtà è abbastanza tranquilla, più del solito, ci sta. Anche se qui a Milano piove sempre. E che stiamo facendo Vale? Stiamo, eh, parlando, come sempre, perché dovete sapere che io e Ceci ogni sera ci sentiamo, ci raccontiamo, insomma, le nostre avventure, le nostre paranoie, le nostre... Avventure e disavventure. Che sono più... Ce ne capitano di tutti colori, siamo entrambe due fantozzi. E quindi, insomma, abbiamo deciso di chiacchierare e condividere le nostre chiacchierate anche con tutti voi. E vi abbiamo appunto chiesto di mandarci dei vocali, proprio tema genitori. E devo dire che è arrivato veramente di tutto. Esatto. Quindi adesso affrontiamo l'argomento, Vale. E dimmi un po', tu che rapporto hai con i tuoi genitori? Allora, io ho un bel rapporto con i miei genitori, molto diverso il rapporto con mia mamma e quello con mio papà, nel senso che con mia mamma ho un rapporto molto più stretto, ci sentiamo sempre. Mio papà lo sento molto meno, essendo anche fuori casa adesso da un po', però diciamo che comunque quando ci vediamo siamo bene insieme. E tua mamma io la vedo sempre nelle storie, nelle cose. A parte l'amo, cioè è iconica, veramente vorrei farmi troppo la maglietta con la sua faccia. Sì, sì, ma io la adoro. Ma il bello di lei sui social è che lei in realtà non vuole essere ripresa. E proprio per questo fa straridere, poi con la sua accente un po' svizzera-tedesca, Valeriano, non farmi i video, fa morire. Però anche tua mamma, secondo me andrebbero strada d'accordo insieme. Sì, anche se non le vedo molto simili. Che facciamo? Ce lo sentiamo un vocale? Vai, ci sto, ci sto. Ciao Ceci, ciao Vale. Che carina. Allora, io mi chiamo Giulia e ho 18 anni. Praticamente questo episodio in realtà risale a un bel po' di tempo fa, andavo tipo a alimentare. Sì, e praticamente ero al compleanno di un mio compagno di classe, per cui avevo una cotta pazzesca e ne parlavo sempre con mia mamma, no? A un certo punto, alla fine della festa, mia mamma cosa ha fatto? C'è andata da lui e gli ha detto che avevo una cotta per lui, no? E io sono diventata tutta rossa e volevo tipo sprofondare e mi sono anche arrabbiata un sacco. E poi alla fine niente, non ricambiava neanche, quindi forse è un amore fino a piccola. Un bacio, ragazze. Ciao tesoro! Che voce carina! Sembra molto più piccola, infatti io quando è partita ho fatto che carina, ho 18 anni. Come? Hai detto, tu puoi votare, aiuto. Guida, la vedi per le strade, in autostrada, con Range Rover. Esatto. Mia mamma invece con le altre persone non si è mai intromessa, ma in realtà io non l'ho mai resa partecipe, perché boh mi vergognavo le dici queste cose. E però mi è capitato il contrario, che sono andata a casa del mio fidanzatino all'elementare e suo padre è arrivato di fa. Comunque ho visto che Ryan ha la tua foto sullo sfondo, come va con lui? Oh no! E io tipo, no dai! Mi ricordo che da piccola, cioè, allora a me è piaciuto per tantissimi anni un ragazzo che si chiamava Matteo, e è molto imbarazzato. Lui lo sa che mi è piaciuto per tantissimi anni. E praticamente in terza media faccio la festa di compleanno e comunque avevo pochi amici, diciamo, invito una decina di persone e questo Matteo, che mi conosceva pochissimo, ma io l'ho già invita al mio compleanno, lo conoscevo da una settimana, ciao Matteo, vuoi venire al mio compleanno? E lui, sì, che poi a me piaceva da tre anni, ma lo conoscevo da una settimana, perché non ci avevo mai parlato e mi piaceva, capito? Una cosa strana. Vabbè, ci sta. Lo invito al compleanno, mia madre non fa niente, cioè, mi prende, mi fa, vieni un attimo, mi fa, chi è quello là che non conosco amico tuo? Eh, sì, sì, chi è? Te piace, subito. Vabbè, quello lo dicono un po' di tutti. Sì, ma l'aveva azzeccato, li ha azzecca tutti. Io appena mi avvicinavo a un ragazzino, magari giocavamo insieme, ma ti piace? Oppure, quando ti trattavano male i bambini, diciamo, ma perché gli piaci? Ah, ma mi ha menato, mi ha tirato i capelli, mi ha fatto cadere due denti. Eh, ma perché gli piace? Esatto, gli sto solo sulle palle, non gli piaccio. E invece... Ma tu ti ricordi di una volta in cui, tipo, i tuoi genitori ti hanno sgridata o messa in castigo abbastanza pesante? Allora, io facevo una cosa stranissima che, non so se è veramente da fuori di testa, mi sgridavano, magari se facevo qualcosa non andava bene, però cose minime, che ne so, non hai rifatte il letto, queste cose. E io mi mettevo in punizione da sola, mi chiudevo in camera e dicevo, stasera non ceno. Cioè, capito? Era tipo, vai a letto senza cena da sola. Proprio il masochismo, quello... Ah, così. Così. E loro non mi hanno mai vietato... Il sogno di tuoi genitori. Sì, era molto strano per me quando sentivo, magari, le mie amiche, eh, non posso uscire perché sono in punizione. Io ho proprio punizioni mai... No, questo mai successo. Però, sì, qualche bella sgridata l'ho presa, soprattutto quando ero proprio piccola, piccola. Una volta mi ricordo che ho colorato tutto il muro bianco con il carbone. Avevamo appena acceso il fuoco, ho preso il carbone e ho iniziato a pitturare il muro, fare disegnini. Io facevo una cosa fastidiosissima. Prendevo i saponi e li mischiavo perché dicevo di fare le pozioni. Quindi magari ti andavi a lavare con lo shampoo e dentro era tutto balsamo misto a bagno e schiuma. Quindi non riuscivi mai a lavarti perché mettevi il balsamo, ma in realtà era sapone per corpo, quindi i capelli tutti acciappati. Anch'io facevo però le pozioni. Che ridere. E lì mi sgridavano, sì, me lo ricordo. Perché per me era, capito, proprio abbracadabra. Sto facendo una pozione revitalizzante. Anche io. Invece no, stavo a fare un picci. Ti va di sentire un altro vocale? No. Scherzo? Sì, cioè. Prank. Prank. Scherzo è finito malissimo. Ciao Vale, ciao Ceci, sono Laura e ho vent'anni. Ciao Laura. Ciao, ciao. Ora vi racconto una cosa che mi è successa quando avevo 12 anni e per cui mi sono imbarazzata un sacco. ho chiesto a mia mamma un sacco di volte di farmi la ceretta e niente, lei ha sempre trovato 100 scuse, che aveva sempre da fare per non portarmi. Alla fine un giorno io non ce l'ho fatta più, mi sono tipo messa a piangere perché non mi piacevo e si è messo in mezzo pure mio papà a dire che ero esagerata, che ero troppo piccola. Ma io mi sentivo non a posto, cioè mi sentivo proprio a disagio e alla fine mia mamma mi ha permesso di andarci, però dato che veramente non aveva tempo di portarmi, sono andata con mio nonno e niente, mi imbarazzavo solo al pensiero, però alla fine ce l'ho fatta a fare sta ceretta. Meno male. Che carina. Ciao. Ciao, almeno l'ha fatto. Ciao. Io ho avuto lo stesso problema, che mia mamma non voleva che la facessi, ma io la volevo fare tantissimo. Era diventato un puntino fisso, io dovevo farmi sta cavolo di ceretta, ma poi è cambiata la concezione. Hai visto comunque, entriamo in una tematica un po' preoccupante, pericolosa, i peli, cioè in senso adesso ti prendono in giro se hai i peli. È inutile, pure a 10 anni, io mi ricordo che avevo 13 anni, 14 anni e avevo magari, che ne so, un po' il monociglio e comunque me lo facevano notare, in senso perciò era imbarazzante. Perché tu le hai detto, mamma, mamma, me lo fai fare? No, sei piccola e poi a scuola magari ti prendevano in giro. Cioè era meglio fare tre minuti di ceretta e evitarsi le prese in giro per un anno. Però magari a volte, non sempre i genitori si mettono dal punto di vista dei figli, perché si dimenticano come è stato. Eh certo, non capiscono. Che le cose ci sembrano enormi, no? Cioè per un bambino sembra la cosa più importante del mondo. Per me fare la ceretta era veramente, pensavo solo a quello tutto il giorno, c'è un periodo. Mi devo fare la ceretta sulle braccia, non so come fare. E quindi sembra magari un'esagerazione. Io invece ho fatto la cavolata di fare tipo la lametta, cioè di prenderla di nascosto e fare così ed è stata una cavolata. Beh, grande mossa, mi immagini. Perché due giorni dopo sembrava uno ieti. Eh certo. Perché la lametta non è una gran mossa effettivamente. Quindi per tutte le ragazze all'ascolto, meglio la ceretta se dovete fare cose di nascosto. Tra l'altro parlando di diventare grandi, quindi anche di spiegazioni, beh penso che ci siamo passati un po' tutti il momento in cui o mamma o papà sono arrivati in là e ti hanno spiegato. Eh, quando una mamma e un papà si vogliono tanto bene. Eh, da me no. No, è incredibile. A me compagni a scuola, perché... No, gravissimo, così non hai capito. Gravissimo, lo so. Allora, a me hanno iniziato proprio da piccolissima a cercare di spiegarmelo, perché mi ricordo che raccontai a mia madre e me l'ero fidanzata e solo da grande ho capito la conversazione che abbiamo avuto. Perché lei mi prese da parte e mi disse tipo, ma con questo fidanzatino, no, che fate? E io, che facciamo? Niente. E giochiamo. Questo, quest'altro. Andavo al centro estivo, quindi ero proprio piccola. E lei, vi date la mano? Io, sì, ci diamo la mano, vi baciate? Magari ci baciamo pure, però io mi vergognavo a dirlo e pensavo fosse quella la preoccupazione di mia madre. Ok. Quindi, no, 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 ti pare, mamma? No, no, no. E lei, ah, ok, ok, va bene. Quindi niente, solo io, sì, sì, niente, niente, niente. Perché pensavo che la preoccupazione fosse il bacio. Ok. Però, detto questo, questo argomento, anche solo a parlarne mi mette l'imbarazzo, se ci ripenso. Beh, in effetti sì, parlare con i genitori è sempre imbarazzante di queste cose. Mio padre, invece, sta molto più schietto e imbarazzante. Allora, step uno, step due, step tre, e nasce il bibbo. No, a me non me l'ha spiegato. Quando mi sono fidanzata mi ha fatto, ma quindi? E io, no, papà, ti prego, lasciami stare, vai via, parliamo di altro. Ti piacciono le fettuccine? Possiamo parlare di qualcos'altro? Ma tu ti ricordi la prima volta che hai portato un fidanzato a casa? Sì, allora ufficiale, proprio portato, no, aspetta, c'è una storia incredibile. Una perla. Sì, è una perla incredibile. Allora, cerco di farla il più breve possibile. Mi ero fidanzata con il mio ragazzo storico che vi ho raccontato, se non sarà molti anni, quindi cinque anni, ed era due anni più grandi di me. Quindi io avevo 16 anni, 15 anni e lui quasi 18, insomma. Perciò, comunque, in quella fascia d'età la differenza, magari anche se sono due anni, però è tanta perché lui aveva già la patente, quindi usciva al pub, beveva la birra. Io, con 16 anni, andavo in giro in autobus, uscivamo il pomeriggio, ci bevevamo il tè freddo al bar, a tè nel biardino. Era proprio due stili diversi. Quando ci siamo iniziati a frequentare, lui andava con la macchina, mi portava la sera, ritornavo tardi perché andavo al pub con i ragazzi grandi. Quindi, sotto casa, siamo parcheggiati in una smart e ci stiamo salutando, quindi, boh, baci, bacetti, e stavo per scendere dalla macchina. Dietro di me si mette la macchina di mio padre e noi avevamo le frecce accese per uscire dal parcheggio e mio padre si piazza dietro pensando che stessimo uscendo per prendere il parcheggio. Io lo chiamo allora per prevenire il tutto. Lui, eh, guarda, amore, sei a casa? Io sono arrivato, sono sotto casa, ma ci sta qua una smart del cavolo che non capisco se sta uscendo o meno. Ciao, sono io. No, e allora io ho fatto, papà, ti dico una cosa, però tu non ti devi arrabbiare, me lo devi promettere che non ti arrabbi. Che hai fatto? Tu stai. Te lo dico, ma non ti arrabbiare. E lui, no, no, non mi arrabbio. Io che scendo dalla macchina, coltela fuori in mano, faccio ciao. E lui, di chi è la macchina? Al telefono. Vado là, papà, è il mio amico che mi ha accompagnato. Lui, sì, è il tuo amico. Amico. Quindi ci siamo parcheggiati, gli ha lasciato il parcheggio, si sono salutati, si sono stretti la mano e sono salita a casa imbarazzatissima. Beh, ci credo. E tua mamma quando ha conosciuto Jody? Cioè, è la tua famiglia. In realtà, vabbè, lo conoscevano già tramite social e tutto, perché comunque l'avevano già visto in radio e quant'altro. E quindi la prima volta che si sono visti, Jody fa benissimo l'imitazione, ha detto proprio Finalmente! È vero, Jody è bravissimo con le imitazioni. Sì, sì. Vale, senti, che facciamo? Ci sentiamo un vocale? Ascoltiamo. Neccano tutte orecchie. Ciao, mi chiamo Emily, ho da 10 anni e ho rapporto con i genitori. Beh, ho una mamma giovane, quindi è bello, storia con lei, perché mi può comprendere di più. Però il fatto negativo è che mi sento troppo osservata nel telefono. Per esempio, vuole vedere tutte le mie chat che mi scrive con le mie amiche. No, no, terribile. E quindi mi sento molto imbarazzata. Oppure mi controlla Instagram e tutto il telefono. Però io, cioè, vorrei che loro si fidassero di più di me. Ciao tesoro! Ciao! Ok. Io stavo un attimo riflettendo perché non mi è mai capitata una cosa del genere, quindi non so realmente come sia. Ci sta comunque, soprattutto per quanto riguarda i social, che quando una ragazza o un ragazzo è molto piccolo, che comunque tengono un po' sotto controllo, però le chat, queste cose, un po' too much. Sì, secondo me magari controllare con chi parli, ma non cosa dici. Cioè, ci sta che comunque un genitore apre e controlli. Però leggi i nomi, vedi che sono magari amichette di scuola e basta, però non ti vai a leggere che cosa si dicono. Mi sembra un po' un'invasione della privacy. Allora decidi di non dargli il telefono piuttosto. Esatto, esatto, sono d'accordo. E invece hai mai scoperto qualcosa di tua mamma che non ti aveva detto? Magari tua madre, tuo padre? A me è successa una cosa traumatica riguardo a questo perché io credevo un sacco nel topolino dei denti e mi impegnavo un sacco perché ogni volta che mi cadeva un dente facevo disegni, lettere, costruzioni, braccialetti e li lasciamo sul comodino insieme al dente per il topolino. Tra l'altro facevo disegni su fogli a quattro e non so come un topolino potesse portare un foglio più grande di lui, però vabbè mi impegnavo un sacco e quindi un giorno ero in camera dei miei genitori e mia mamma mi fa apri il primo cassetto e passami per favore un fazzoletto di quelli di stoffa perché ce l'ho bisogno e io per sbaglio ho aperto il secondo cassetto senza pensarci e ho trovato dentro tutte le lettere, tutti i dentini e mi sono arrabbiata un sacco, cioè mi ricordo che volevo scappare di casa e avevo iniziato a dire mia mamma, sei una bugiarda, mi hai mentito per tutti questi anni, mi dici sono menzogne, mi sono arrabbiata un sacco. Non so se lo posso dire, però lo dico, allora, ah non lo posso dire, non lo posso dire, può, signore limoni, allora può succedere che i genitori magari siano, quando una mamma e un papà si vogliono molto bene, può succedere che li becchi magari mentre hanno, si divertono si divertono, having fun, e mi ricordo che eravamo al campeggio, oddio ti giuro, aiuta, non voglio mai più pensarci, però insomma, non l'abbiamo, sì, loro sì, mio fratello era mandato alla piscina, ci avevano mandato alle piscine del campeggio, andate in piscina dai, sì, noi svolgiamo qualche cosa burocratica, sì sì, attività ricreativa, qui noi facciamo, sistemiamo le tende, ok, purtroppo la piscina era chiusa, quindi il campeggio era enorme, il tempo di andare alla piscina e ritornare, siamo tornati, insomma, era in atto una conversazione al quanto interessante, animata, non saprei come definirla, e quindi mio fratello mi fa, vabbè, noi andiamo alla piscina, io, ma è chiusa, e ci andiamo comunque, e siamo stati fuori a una piscina chiusa, cioè che avevamo il cancello chiuso tipo a bere un'ora e a giocare con i sassi, perché... Ma tuo fratello è più grande, giusto? Sì, è di sei anni, quindi immagina io avevo otto anni, e lui però ce ne aveva magari quattordici, quindici, quindi già un po' più sveglio, io non avevo niente, e questa è la mia storia. Ah, emozionante, insomma. Ciao, mi chiamo Cecilia, e la mia crescita si è fermata lì, sono rimasta agli otto anni, tutto quello che è venuto dopo sono traumi su traumi. Sentiamo un altro vocale, va bene? Ma certo. Ciao, sono Olivia, ho 15 anni, e vi parlo del rapporto con i miei genitori. Ho un rapporto bello con entrambi, ma soprattutto con mia mamma, perché ultimamente per me è un periodo davvero difficile, ma mia mamma mi sta aiutando un sacco, soprattutto perché ho fatto una delle prime scelte più importanti della mia vita, ovvero quella di voler cambiare scuola dall'anno prossimo, perché in questa non mi trovo bene, e dato che rischio anche la bocciatura, perché sto prendendo tante insufficienze, mia mamma comunque mi sta spronando a fare meglio, e sta credendo in me, e sono contenta, insomma, di avere due genitori come loro al mio fianco. Grazie per l'ascolto. Bello, che carina, questa cosa è veramente molto dolce. Sì, è molto molto bella, e anche io per fortuna sono sempre stata molto supportata dai miei genitori, mia mamma mi ha sempre detto basta che ti impegni, e poi insomma il risultato, cioè siamo felici se è positivo, soprattutto per quanto riguarda la scuola, però se una volta non prendi il massimo dei voti, che tra l'altro in Svizzera è il 6, quindi... Massimo, vi siete spregati proprio. Però è bello, insomma, che i genitori comunque ti supportino e ti capiscano quando hai bisogno, quando hai una difficoltà. Dai, ma mandiamo un vocale alle nostre mamme per ringraziarle, ci sta, no? Tanto la mia è sempre online e purtroppo è in Svizzera, quindi le mando il vocale. Eh vai, tu manda il vocale, la mia invece sta in salone, che non è lontano, ma a Svizzera, quindi posso anche... Mamma! Io e mia mamma abbiamo un rapporto molto... Mamma! Mamma, vieni un attimo! Di delle cose belle su di me. Sei bionda? Mamma, non sono cose belle, più belle. Sei biondissima. Ma a te pare! Ma andrò a provare questa! Dimmi che mi ami e vuoi restare con me. Ti amo e vorrei tanto restare con te. Che carina! La spontaneità! La spontaneità incredibile. Mamma, grazie di queste belle parole che vengono dal tuo cuore. Spero tu non ti arrabbi... Non ti arrabbi. Perché scoprirai i racconti che ti... Ti pare a te che io devo scoprire le cose sentendo... Mi cacceresti mai? No, potrei adottare Valeria per... Tu hai capito di che parliamo? Valeria ha detto... Ah, che non era... Non sembrava un no. Sembrava un no. No, ci sta, sono contenta. Sì, però non è molto brava a cucinare. No, no, so fare delle insalatone... Mazzangrenine. Amore. Vale, manda un vocale alla tua. Ok. Ciao mamma. Niente, volevo salutarti, dirti che parliamo di genitori e che ti voglio bene e non vedo l'ora di rivederti. Ciao! Che carina! Mamma non ha sentito niente. Questo era il mio vocale. Vabbè Vale, dopo questa promessa di scambio famiglia, quindi...